Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video! È giunto il momento di farvi vedere la mia seconda settimana di PIL 4. Come sarà andata? Beh, scopritelo insieme a me e vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto e di seguirmi anche sulla piattaforma Viola, sul canale twitch.tv Matteo Agostini VGC per scoprire insieme e per restare sempre aggiornati sulle prossime settimane di PIL e ovviamente su tutte le altre challenge in arrivo. Partiamo! Speriamo che Dio ce le mandi buone ste rom, che vi devo dire ragazzi? Blu! Rion contro Magby, ti dirò. Non è male, eh? Ora, non è male o non è nemmeno bene. Ci abbiamo delle mossacce! Io farei Dark Pulse, tanto 13x13 a questo punto. Medi, potrei anche fare Meditate, però se siamo più veloci prendiamo un flinch magari. Eh, vabbè, ciao. Di cadrini. Bene, si inizia con le scammate più comode! Io la gettonerei. Proviamo, dai. Poi Dustox su Bailiff non mi esce. Si perde. Tanto vediamo. Dai, proviamo. Proviamo Metagross. È pietoso. Io non tocco Dustox, letteralmente. Cioè, è un bidone incredibile sto Pokémon. Rislaggiamo. E beccati stilucendo. Com'è che è questa? Yandile 2. Carta! Oh ragazzi, io provo a fare la carta. Una merda incredibile. 10 di speed è veramente un troiaio, però provo a fare la carta. È enorme. È enorme. Senti, proviamo Poison Gas. Molto bene. Vice Grip. Parta! Parta! Se esce la Fatia con una mossa, volo. Bull Cup. Eh no, qua mi sa che si suga male. Ah! Vabbia! Vabbia! Ma secca! Andiamo un po'. Quick Ball. Useless. Proviamo il tutto per tutto. Mr. Mime. Io provo a bullcappare qua, ragazzi. Devo esculare. È lavaplume, però. Dio mio. Bello il crit. Ma è una gioia, però. Porca p***a. Oh! Va bene. Va bene. Il rettile contro Giraffe. Minchia, ma dammi Septile o Kanga. Ma meno che non sia un ottimo Giraffe, rig. Non è male. Difesa a zero. Però Aeroblast Confusion Psybeam sta bate. Sai che si esce di Aeroblast su Septile? Eeeh, da Septile Download, vai. Già andato. Già andato. Già andato. Già andato. XC sur Septile Download. Va bene! Non ci credo. C'ha Normalize. C'è la fatica? Proviamo. Era God, eh? Era veramente God, eh, questo Pokémon. Era veramente God, questo Pokémon. Ma sto con il nome sale. Era veramente God-like, eh? Normalize. A rovinare tutto. Diventerò una star. Eh, si lavora e si fatica. Per i pane. E per la... Gnani. No, Ravski. No, Dio bo... Ah, per ora sta PIL sfiga o come le altre o peggio? No, dai. Per ora sta PIL media, dai. Non voglio... Eh, vabbè, porco due, dai. Non si vuole atturare. Ah, per ora sta PIL... Medio mi punteggio, dai. Boh. Era rosa. Sì, ma... Dio santo, i laboratori. Che palle. Oh, cioè, la media mia base stats è 200. E sui lab, ragazzi, non ci si fa niente. Cioè... Boh. Mi sto trovando dei lab senza senso. Provo a burnare. Ma che c***o ha appena visto? E qui si suga male. Tarara, 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 come abbiamo fatto bene questo PIL a mosche. Noi glielo tagliamo, glielo facciamo tagliare un po'. Perché credimi l'abbiamo tenuta lunga, raccatta ogni ho. Via. Ma cos' che laboratorio è? Ma mi dai un Pokémon? Devo fare 200 Switch. Ma cos'è? Ma... Energible. Grande Fren... Grande Frencone! Col tuo raid si scula! Col tuo raid si scula! Eccolo lì! No, meganium into Milotic che non cambia una sega, mi tira Avalanche. Che meganium into Milotic? C'ha huge power. Questo era buono! C'ha huge power! Va bene! È incredibile! È impossibile! È impossibile giocare così! Pieno di obono! Ah, come mai ste live notturne se posso chiedere? Forse non si vede abbastanza. È troppo piccolo forse. Calle, considera che sono a 13 ore oggi, è per ora. 13 ore e 17 minuti di lavoro. Qui se avessi avuto la skill... Qui se avessi avuto la skill, probabilmente avrei ritato di facciata. Punto di doppio dell'evoluzione, quanti evo sei riuscito a fare in questi 23? Zero! Zero! No, no, il Caterpie mi rifiuto. Mi rifiuto. Semita... Qui... Semita! Faccio stop streaming immediato. You're a Troublemaker! Corupi. Basta. Non si può giocare così, dai. Porco 2. Non riesco a hitare un Pokémon super efficacemente. Provo Lavaplum. Cos'è che è diventato? No, ha perso il... Il... Codro. One-shotato? Eh, di Al Gallotto però male, eh. No, Dio mio, dai! Vabbè. Eh, il peccato anche impari la... Chatot. Vabbè. Eh, niente, ragazzi. Io, come mi one-shotano sti Pokémon, non... Proprio, boh. Dai, come ci scamma? Così. Ora ci paralizza. No, ci critta. Para? No, incredibile. No, siamo in Thai! Eccolo! Oh, Dio santo. Tra sti poco, Ago, devi scautare il lab. Ti immagini scautare il lab? Come sarebbe scautare il lab, ragazzi? Sky Uppercut. Mist. Ok, metà vita. Poison Jab? Non ci credo a... No, vabbè. Io, io non... Non ci posso eredere. Non posso eredere a quello che ho visto negli ultimi quattro tentativi. Vediamo un po'. Ah, mi viene da spengere tutto, guarda, boh. Qui posso fare solo dig. Sì, mi sembra di giocare un altro gioco rispetto agli altri. Io, boh. Ho proprio questa sensazione. Che vi devo dire? Vedi perché? Vedi perché lo faccio? Vedi perché? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi perché? Lo vedi perché? Trostalo al tuo capitano! Fortà! Premunizione 3. Oi, oi. No. Ma che danno? Va bene, abbiamo perso. Rippando. Mi first. E ci ha fatto succhi e ci fa... E vabbè, dio, madonna. Però, porco due. E la madonna! C'è bisogno di girarmi una 600! La madonna! Il re! Il re! E intanto sono 80. 40. Più 40. Perché abbiamo i punti doppi di Evo. Il re! Bello. Bello. Bel poema. Devo dire, bel poema. E se non burno, piango. Ma proverò a burnare. E che porco due. Ma che mossa è Outrage Salamence? Dio santo! Ma perché devo prendermi le 180 in bocca? Senti! Ring out! Prova a strizzare. Oddio, se... No, oddio. Ring out un... Sì, prova a strizzare. E porco due. Madonna che palle quando al laboratorio ti one-shotano con le stab e ti tirano le 180. Dio, madonna che rabbia, oh! Ora mi darà un god contro... Di giuro. Una bestia senza senso. Frustration. Download. Io non ne posso veramente più, però. Porco due. Qua, vò a pisciare perché veramente mi sono rotto il ca... Sette di attacco. Burna. Che tristezza. Dai, dio, madonna. Che palle. Mi ha dato Blasian che è il Pokémon che non tocco. È impossibile sta... Sta Kaizo. Prendo e butto tutto, ragazzi. No, no. Non c'è verso di competere. Ma dai, lavoro. Morti. Un altro... Un altro rita. È incredibile. Sgini nuovamente belle. No, no, ragazzi. No, 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 no. Via, vado, 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 vado. Non posso permettermi di morire così. Basta, dio, madonna. Basta, leggendari, ti prego. No, fratelli. È confuso. E snappa. No. Ne posso più. Non ne posso più di trovare leggendari. Tanto se tocca provare, si deve provare. Io la provo, ragazzi. Poi, se succede, succede. Se non succede, non succede. Amen. Arceus. Al 5. Jump kick. Rischiamo. Vabbè, 95, dai. Ma che danno è? Tanta le volte fai un Brock. Mamoswine. Io vado di Outrage puro, eh, ragazzi. Io, se vi dico, non posso passare il secondo pigliamosche. C'è un motivo. Devo massimizzare il danno. Dai, devo massimizzare il danno. Se ci serve Rapshaw, abbiamo un Efer. Devo massimizzare il danno. Niente. No damage. Incredibile. Non abbiamo fatto niente. Sì, vabbè. Dig. Perzo. Che curio. Non ho più cure. Oh, ragazzi. Io vi rifaccio vedere dei box, eh, comunque. Vi faccio vedere i box. Eh. Umbre un po' rigonzata Wilder. Tre me*****i una dietro l'altra. No. No, ciccio. Eh, vabbè. Vabbè. GG. Non è brutto me, Pokémon. È vero. Però hai solo Easy Power, eh. Ha una mossa e mezzo. Sono d'accordo con te. Ma come fa? Come fa? Come fa a reggere così un Tropius? Ma me lo spieghi, Dioristo? Boh, io, ragazzi, non ho più parole. 34 di attacco. 20%. 34 di attacco, eh. 34. 34 di attacco. Va bene. Bello questo lab. Huge Power. Questo va cambiato. Se uscano. Poison Fang. 28, eh, io d'attacco. 28. 28. 14 con huge power e 28, eh. Io, boh. Io ti scongiuro. Io ti prego. Io ti prego. Io ti prego. Io ti prego. Io non ne posso più. Ho trastato di tutto. Di tutto. Ho trastato di tutto. Di tutto. Di tutto. Di tutto. Di tutto. Io ti prego Regi Ice. Io ti prego Regi Ice. Ti prego Regi Ice. Vediamo. Meditate. Ok. Non mi puoi mettere Magnet Zone. È ominous into Crash Club. No, no, frate no. Allora devo andare di aero. Ti prego. Dai, c***o. Sì. 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 94 di attacco speciale. Io, più diosio, non so che c***o fare. Skiplum. Aeroblast. Giù uno. Persian. Aeroblast. Magical Leaf. Magical Leaf. Va bene. Magical Leaf. Questo bulki as f***o c***o è. Tutti grossi, madonna. Che palle. Farei ominous. Sì, ominous. No. No, frate no. Dai, no. Dai, così però no. Però così no, fra. Dai. 98 di attacco speciale ho fatto 23%. Ma che cos'è? Le provo un altro ominous. E un altro ancora. Io farei Magical Leaf qua. Perché se mi gritta a aero pump è un bordello. Se lui mi gritta di aero pump è un casino. Beh, qua è un ominous facile però, eh. Se lui regge un 147, probabilmente un agility è più lento. Io farei Magical. Secondo me ci muore. Ultrachamp. 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 Devo fare Bugsy al volo e sperando di fare Bugsy al volo con la Sand. Perfetto. Primo Pokémon di Bugsy con la Sand. Bene, bene. Tutti i deboli a Magical Leaf. Bravi, bravi, bravi. Tutti i deboli a Magical Leaf. Ma c'era qualche fatica a un Bugsy o sbaglio? Non c'era nessuna fatica a un Bugsy? Non c'era un c***o. Non c'era un c***o. L'origine del male 1. Sono indeciso se rischiare subito su Chiara la... Il Teglo. L'unica di Mismagius è bastardo, eh. Dai, io farei Teglo, ragazzi. Dragon Rush. Quattrocento in attacco speciale. Quattrocento, eh. Piccolini, eh, sti Pokémon. Poca roba, devo dire, eh. Sì, sì. Giusto poca roba, Dio, madonna. C'è la fatica di fare doppio Mismagius, porco 2? Sul Selvavio. La torre 1. Arta. Hey, Night Slash Crit. Capito il Bastard. Bene. Flygon. Mio fratello. Ti prego, Wheezing, Gengar, Arbok. Gengar, Wheezing. No, mio Dio mio, però. Che c***o di mio. Gengar, Gengar. Ma va... Oh, Mew e Mewtwo. Gengar, Arbok, Mach. Wheezing, Gengar. Bastio, madonna. Gengar, Wheezing. Crobat. Crobat. Magmort. Niente. Ripando nella Godin. Eri. Plasl. Io, Teglo, eh, ragazzi. Ovviamente dobbiamo iniziare a uniridici, noi. Io, madonna di Dio. Like, don't know what is life. Welcome to my life. Diamo! Carte a Jasmine non ce ne sono, vero? Mi pare di no. Non ce n'è. Vabbè, Teglo, ragazzi. Spiderweb. 700 di difesa speciale. Sì, di attacco speciale. Buono! Va bene. Ok, Price. Ehm, Orko 2. No, Super Sonic, no. Eh, non posso rischiare, dai. Posso rischiare. Si può rischiare, dai. Rischiare qui... Era troppo... Giusto, sì. Cioè, non possiamo permetterci di rischiare. Dobbiamo massimizzare la run. Arretto. Arretto! 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 720! Arretto! Come c***o arretto! Beh. Ragazzi, 387 in special atta. 40 livelli sopra wheezing. Vediamo se riusciamo a faticare. Exeut tiro drill pack. Eh, che all'11... 14... Giraffa rigintimidate. Fati hallo! Fati hallo! Fati hallo! Fati hallo! E abbiamo morti anche dallo scam qua. Incredibile. Impossibile giocare. Oh, una buona settimana! E c***o vi devo dire. Una scammata anche qui. Incredibile. Cioè... Ancient powers rimane un HP Water Pulse confusion. Al primo Water Pulse. Fati hallo! Fati hallo! Fati hallo!